ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco solpidium sandoz sandoz spa ultimo aggiornamento 16 settembre 2022 cos'è zolpidium sandoz confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere zolpidium sandoz durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è zolpidium sandoz zolpidium sandoz è un farmaco a base del principio attivo zolpidium tartrato appartenente alla categoria degli ipnotici e sedativi benzodiazepinici e nello specifico benzodiazepine analoghi è commercializzato in italia dall'azienda sandoz spa zolpidium sandoz può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni zolpidium sandoz 10 mg 30 compresse rivestite con film informazioni commerciali sulla prescrizione titolare sandoz spa ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe c principio attivo zolpidium tartrato gruppo terapeutico ipnotici e sedativi benzodiazepinici forma farmaceutica compresse rivestite indicazioni zolpidium sandoz è indicato per il trattamento a breve termine dell'insonnia negli adulti in casi in cui l'insonnia è disabilitante o causa grave disagio per il paziente posologia il trattamento deve essere il più breve possibile generalmente la durata del trattamento varia da alcuni giorni a due settimane fino ad un massimo di quattro settimane compresa la fase di graduale diminuzione del trattamento il periodo di graduale diminuzione del trattamento deve essere adattato alle necessità individuali in casi particolari può essere necessario un prolungamento oltre il periodo massimo di trattamento in questi casi il prolungamento non deve essere effettuato senza rivalutare lo stato del paziente assumere il prodotto con del liquido prima di coricarsi posologia adulti il trattamento deve essere assunto con una singola somministrazione e non essere risomministrato durante la stessa notte la dose giornaliera raccomandata e 10 mg da assumere immediatamente al momento di coricarsi la dose giornaliera totale di solpidem non deve superare 10 mg persone anziane per i pazienti anziani o debilitati che possono essere particolarmente sensibili agli effetti dell'uzolpidem la dose consigliata è di 5 mg questa dose deve essere aumentata a 10 mg solo quando la risposta clinica e inadeguata il farmaco è ben tollerato in nessun paziente deve essere superata la dose totale di 10 mg pazienti con insufficienza epatica per i pazienti con insufficienza epatica che non eliminano il farmaco rapidamente come i soggetti sani la dose consigliata è di 5 mg questa dose deve essere aumentata a 10 mg solo quando la risposta clinica e inadeguata il farmaco è ben tollerato in nessun paziente deve essere superata la dose totale di 10 mg popolazione pediatrica solpidem non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni di età a causa della mancanza di dati che supportino l'uso in questa fascia di età i dati disponibili dagli studi clinici controllati con placebo sono presentati nel paragrafo 5 1 controindicazioni insufficienza epatica grave per sensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 sindrome delle pnea durante il sonno miastenia grave insufficienza respiratoria acuta e barra grave avvertenze speciali e precauzioni di impiego generali quando possibile determinare la causa dell'insonnia prima di prescrivere un ipnotico trattare le condizioni di fondo l'insuccesso del trattamento dell'insonnia dopo un periodo di 7 14 giorni può indicare la presenza vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione alcol non è consigliato l'uso concomitante con alcol l'effetto sedativo può aumentare se il farmaco viene assunto in associazione con alcol ciò influisce sulla capacità di guidare di usare vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere zolpidem sandoz insieme ad altri farmaci come nervaxon eccetera chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere zolpidem sandoz durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza non sono disponibili i dati sullo zolpidem sufficienti ad accertarne la sicurezza d'impiego durante la gravidanza e l'allattamento sebbene studi su animali non abbiano evidenziato effetti teratogeni o embriotossici la vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari zolpidem sandoz compromette la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari i conducenti di veicoli e gli operatori di macchinari devono essere informati che come con altri ipnotici vi è un possibile rischio di sonnolenza proligato tempo di reazione capogiro soppore vista confusa barra doppia e ridotta vigilanza e compromissione della capacità di guidare il mattino successivo alla terapia vedere paragrafo 48 per minimizzare il rischio si raccomanda un periodo di riposo di almeno otto ore fra l'assunzione di zolpidem e la guida di veicoli l'uso di macchinari e il lavoro in altezza compromissione della capacità di guidare veicoli e comportamenti come addormentarsi al volante si sono verificati con zolpidem in monoterapia alle dosi terapeutiche inoltre la cosomministrazione di zolpidem con alcol e altri farmaci ad effetto depressivo sulle snc accresce il rischio di tali comportamenti vedere paragrafi 4 4 e 4 5 i pazienti devono essere avvertiti di non usare alcol o altre sostanze psicoattive mentre assumono zolpidem effetti indesiderati i seguenti dati di frequenza sono la base per la valutazione degli effetti indesiderati molto comune e un decimo comune e un centesimo un centesimo raro vedi la scheda tecnica del farmaco rct completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio segni e sintomi nei casi di sovradosaggio di zolpidem da solo in associazione ad altri farmaci o sostanze che deprimono l'attività del snc incluso l'alcol la compromissione dello stato di coscienza va dalla sonnolenza al coma vigile e diversi sintomi gravi inclusi casi fatali dopo sovradosaggi fino a 400 mg vale a dire 40 volte la dose consigliata la ripresa è stata totale trattamento instaurare un trattamento sintomatico generale di supporto se si ritiene opportuno praticare immediatamente una lavanda gastrica somministrare liquidi per via endovinosa se necessario qualora lo svuotamento gastrico non offre alcun vantaggio somministrare del carbone attivo per ridurre l'assorbimento deve essere preso in considerazioni un controllo delle funzioni respiratorie e cardiovascolari non somministrare sedativi anche se si riscontra uno stato di agitazione considerare l'uso del flumazenil se vengono osservati sintomi gravi la somministrazione di flumazenil può contribuire alla comparsa di sintomi neurologici convulsioni nel trattamento del sovradosaggio con qualche prodotto farmaceutico tenere presente che più sostanze possono essere state assunte dal paziente considerato l'alto volume di distribuzione e l'alta capacità di legare proteine dello zolpidem emodialisi e diuresi indotta non sono misure efficaci studi di emodialisi in pazienti con insufficienza renale trattati con dosi terapeutiche hanno dimostrato che lo zolpidem non è dializzabile proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica ipnotici e sedativi analoghi delle benzodiazepine codice atc n 0 5 c f 0 2 lo zolpidem una imidazopiridina è una sostanza ipnotica simile alle benzodiazepine studi sperimentali hanno evidenziato effetti sedativi a dosi inferiori proprietà farmacocinetiche assorbimento sia l'assorbimento che l'esordio dell'effetto ipnotico dello zolpidem sono rapidi la biodisponibilità dopo somministrazione orale è del 70 per cento all'interno dell'intervallo delle dosi terapeutiche la cinetica è lineare il livello dati preclinici di sicurezza gli effetti preclinici sono stati osservati solo a dosi benaldi sopra dei livelli di esposizione massima nell'uomo e hanno quindi poca importanza per l'utilizzo clinico elenco degli eccipienti nucleo della compressa magnesio stiarato cellulosa microcristallino lattosio monoidrato di ossido di silicio colloidale carbossimetilamido sodico tipo a acido succinico rivestimento lattosio monoidrato macrogol 4000 ipromellosa titanio di ossido colorante 171 farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di zolpidem sandozza base di zolpidem tartrato sono stilinox zolpidem doc generici zolpidem e g zolpidem ratio farm fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato ciao